Grazie di essere ancora qui, pensavo che rimanesse quello delle pulizie alla fine e adesso proviamo qui a vedere se abbiamo qualche vecchia slide, se riusciamo a farla partire. Vi tolgo sicuramente alcune slide perché alcuni concetti sono stati già detti e poi arrivare alla fine significa aver già sentito molti pareri, trovarsi d'accordo con diversi e con alcuni dubbi su altri. Ho scelto questa immagine di un film che spero che abbiate visto e se non l'avete visto ne vale sicuramente la pena e ho paragonato un po' il RoboAdvisoring, soprattutto pensando al mercato italiano, a questo film, The Martian, Sopravvissuto. È la storia di un astronauta che perché a un certo punto la sua missione spaziale per colpa di una tempesta su Marte scappa e lui rimane su Marte e è costretto a vivere in un ambiente ostile e deve cercare di resistere fino a qualcuno che arriverà a salvarlo in un ambiente difficile grazie all'arguzia, all'ingegno e alla sua capacità di adattarsi. Ecco, mi sembra quasi di arrivare a dire queste cose da guastafeste perché secondo la mia esperienza l'ambiente italiano è un poco ostile, assomiglia un poco a Marte, nonostante magari alcune cose che ne sono state dette anche se sicuramente in questa edizione di questo convegno ho visto molti piedi per terra, per dirla non in linguaggio di astronauti. La mia esperienza è di quello di una società, si chiama Soldi Expert SCF, la società di cui sono amministratore insieme a Roberta Rossi che è anche mia moglie, non siamo una società solo di marito e moglie, abbiamo diverse persone che lavorano con noi ma che ha una storia abbastanza lunga in questo settore, che abbiamo iniziato nel 2001 mentre invece se guardate la parola RoboAdvisor la prima volta che è stata utilizzata è stata nel marzo 2002 su una rivista che si chiamava Financial Magazine e poi se vedete su Google Trend quello che è successo in questi anni a questa parola è stata un'esplosione di interesse, un'esplosione di interesse che come bene è stato detto in diverse relazioni precedenti non ha significato ancora questa disruption che viene discritta soprattutto se andiamo a vedere come chi come me è laureato in qualcosa di molto concreto come quello di guardare i numeri e sono quindi un ex ragioniere, quello di andare a vedere se questi modelli poi alla fine sono vincenti. Oggi è un mercato dove tantissimi attori competono in tutto il mondo, in Europa e in Italia ma ancora è un modello molto difficile. Noi siamo una delle poche società nel settore guardando anche i bilanci dei concorrenti che periodicamente, non so se lo fate voi ma secondo me è una cosa sempre utile di andarla a vedere, andarsi a fare le visure e guardare hanno sempre avuto bilanci in attivo e riescono a guadagnare nonostante ci rivolgiamo alla parte più difficile quindi c'è chi fa ricerche di mercato e noi abbiamo ormai da molti anni più di 600 clienti paganti e il nostro business crea valore, come si suol dire. Però è un mercato molto difficile, adesso quest'anno stiamo lavorando al nuovo sito dove abbiamo integrato anche molti nuovi portafogli dove secondo noi è importante quello che bene è stato spiegato non fornire un asset allocation come si suol dire 1.0 bene ha raccontato Daniele Bernardi di Diamant fondati sugli stessi portafogli che ormai puoi trovare gratis ci sono RoboAdvisor che forniscono la stessa asset allocation che viene venduta ancora all'1, all'1,5% attraverso la rete dei promotori lo 0,5% e il 0,6% vengono venduti direttamente gratis quello non è il valore aggiunto il vero valore aggiunto è stato ben detto da diversi interventi è fornire la consulenza e fornire la consulenza significa essere a disposizione del cliente e mettere il cliente al centro di tutto e non solo a parole e devo dire ecco che forse quando ho citato il fatto che lavoro insieme a mia moglie questo devo dire che in un mondo così digitale nonostante lavoro da molti anni nel campo degli algoritmi perché ho iniziato a metà degli anni 80 e forse molti se lo ricordano ma il primo programma di analisi tecnica il famoso Metastock la prima edizione del 1985 e qualche esperienza di mercato ce l'ho anche di sentire molta gente che dice no ma in Italia questo non funzionerà perché nell'85 quando ho iniziato a avviarsi c'era Piazza Affari chi iniziava a lavorare in quel settore chi come me e tanti altri ragazzi si occupava allora di analisi tecnica e lavoravamo su queste cose ci dicevano ma no in Italia non avrà mai successo l'analisi tecnica non vi dico cosa scrivevano allora il sole 24 ore del mondo di questo mondo mentre oggi molte di queste riviste non ci sono più o sono piene di grafici e mettono commenti oramai di analisi tecnica su tutto l'Italia è un mercato difficile, ostile ma dove si può trovare una strada nel nostro caso quello che secondo noi è importante è quello di avere un rapporto con il cliente dove quindi arrivo subito a quasi le conclusioni perché non voglio rompere la vostra serata è importante quello che viene stato detto che ho citato cos'è il modello ibrido dove sicuramente dal punto di vista della tecnologia del fintech noi possiamo fare delle grandissime cose per cercare di rendere come si suol dire scalabile questo modello cioè avere non solo 10-100 clienti ma servarne 1.000-10.000 però in realtà non possiamo raggiungere al massimo questa leva perché la maggior parte dei nostri clienti e soprattutto in Italia e quindi questo da un certo punto di vista è una grande sfida soprattutto in Italia abbiamo dei dati che ci dicono che è molto difficile questo mercato ognuno di noi deve trovare la forza non puntando semplicemente sul scimmiottare copiare modelli americani tipo Well, Front, Betterment perché si farà male lo dicono i numeri adesso vi citerò anche una ricerca che vi consiglio di scaricare e leggere molto interessante questi qui sono i dati pubblicati da Eurostat dove dicono gli italiani che utilizzano l'online banking se vedete in verde scuro le nazioni che sono più attaccate le persone al computer per fare le operazioni bancarie in giallino e in giallo quelle che le fanno meno l'Italia è nella parte bassa siamo al 28% contro il 56% di paesi come l'Inghilterra o la Francia ma soprattutto gli over 55% in Italia sono al 18% e normalmente sappiamo che chi ha i soldi in Italia sono soprattutto le persone su quella fascia quindi non bisogna rivolgersi o almeno se il vostro business non è fatto per essere finanziato da qualcuno che cercherà di avere un ritorno fra 30-40 anni dovete rivolgervi probabilmente a quel mercato e c'è quel mercato la maggior parte dei nostri clienti da molti anni sono persone di 50, 60, 70 anni e adesso ci stanno portando i loro figli i loro parenti perché se c'è una relazione fondata sulla fiducia dove gli algoritmi sono importanti ma è importante metterci la faccia i risultati ci sono questi dati sono stati citati andatevi a vedere l'ultimo rapporto Consob che è stato citato sull'indagine dei risparmiatori anche qua ambiente ostile perché l'Italia perché è un'industria dominata dalla domanda no ma dall'offerta è un'industria in cui nonostante tutto la maggior parte dei risparmiatori sceglie un prodotto perché gli viene venduto e proposto dalla banca bene ha detto Gianluca Bisognani di Sella che bisogna puntare sul cliente ma ho scritto un articolo questa settimana sul Fatto Quotidiano dove ho fatto un'inchiesta con un manager bancario pentito oggi sapete benissimo nelle banche uno dei prodotti più collocati sono i diamanti cosiddetti di investimento una pietra che valore di mercato di 3.000 euro 4.000 euro viene venduta attraverso il canale bancario a 15-20.000 euro ci sono dei margini pazzeschi ho ricevuto l'altro ieri un'email di una società che mi propone 4,5% all'anno di ristorno se noi collochiamo diamanti alla nostra clientela altro che ci viene raccontato che le banche soprattutto le grandi banche perché sono quelle che stanno collocando più diamanti in questo momento sul mercato stanno puntando sulla relazione del cliente purtroppo è questo un grande problema e il cliente risparmiatore lo stiamo facendo scappare questi dati sono drammatici del risparmiatore italiano che guardate anche RoboAdvice certo sono contento che ci sono banche illuminate come Banca Selle che banca che stanno puntando su questo mercato e cercando di far capire che esiste la possibilità che gli algoritmi ci aiutano a fare scelte migliori ha detto bene ha citato il libro di Daniel Coleman il problema di finanza comportamentale le macchine possono aiutarci a investire meglio perché non commettono molti dei classici errori delle classiche trappole mentali che vengono fatti dai risparmiatori pensate anche abbiamo una trappola mentale anche in Matteo Renzi è andato a vedere il 21 gennaio diceva che MPS era una banca da comprare che oramai era eccezionale che più di così non poteva scendere guardate cosa è successo eppure non solo abbiamo un premier che è pieno di trappole mentali quando parla anche lui di investimenti ma ne abbiamo conosciti altri premier ma questo è il mercato e sul mercato anche per avere i piedi per terra vi cito questo studio si chiama Fintech Folli una società inglese SCM Direct ha fatto un report molto interessante dove ha previsto che la maggior parte di molti robot advisor avranno dei grossi problemi perché se il modello che viene imposto e viene seguito in Europa è quello di Wellfront o Betterment e qualche banca o qualcuno che lavora dentro voi con il settore pensa che quello sia il futuro sì può darsi che il futuro per il mercato degli Stati Uniti ma in questo studio con dei dati molto semplici che basta che facciate un po' di attività su internet vi rendete conto il costo di acquisizione di un cliente è tale che voi vi riprendete i soldi se va bene fra 10-11 anni peccato che nemmeno Vanguard riesce a tenere i clienti per più di tre anni quindi molto spesso questo è un business in profonda perdita basta guardare a vedere i bilanci di molte società che operano in questo settore lui ha fatto l'analisi Alan Miller sul mercato anglosassone ma potete vedere in tutti i mercati sono argomenti che spesso anche nel mio blog su soldi expert ho trattato cercando di far capire che è un mercato difficile io non dico questo perché non voglio spaventarvi e non voglio che ci siano altri concorrenti anzi ringrazio molte società che sono presenti in questo settore ma però i clienti bisogna conoscerli e chi arriva e finisco qui a rivolgersi oggi al mercato di robot advisoring a chi opera attraverso gli algoritmi è un risparmiatore che scappa spesso dal canale bancario tradizionale perché ne è deluso e quindi non vuole trovare la solita minestra e quindi il modello che sicuramente probabilmente credo che continuerà a svilupparsi soprattutto sul mercato italiano e dove secondo me noi proprio perché il mercato ostile è difficile come quello del film The Martian potremmo anche tirare fuori delle grandi idee delle grandi soluzioni è un mercato ibrido dove occorrerà avere certo un cervello anche dotato di grandi algoritmi ma una grande capacità di saper trattare con il cliente e per ultimo mi viene in mente ieri sera che ho due bimbi piccoli e la sera e mia moglie raccontiamo delle fiabe Alice è il paese delle meraviglie a un certo punto Alice si mette a correre a perdifiato seguita dalla regina rossa che corre, corre e non ce la fa più si fermano e dice ma dopo che ho corso così tanto ansiamante ma siamo sempre fermi allo stesso punto perché abbiamo corso e la regina rossa gli dice ma è normale qua in questo paese funziona così in questo paese più corri e più rimani allo stesso punto e dice ma che strano paese e pure questo strano paese è l'Italia talvolta è come un tapis roulant e per correre dobbiamo correre due volte di più gli spiega la regina rossa e anche cinque volte di più se vedete le ali di un battito di un calabrone che secondo la natura non potrebbe volare ma invece vola ecco noi dobbiamo volare di più e credo che grazie anche a Massimo Scolari a questo convegno abbiamo capito che il robovisoring può essere anche per chi opera in questo settore un potente strumento per uscire dal modello bancario che ha qualche problema sicuramente finalmente qualcuno ci si rende conto ma dobbiamo farlo correndo di più e applicando anche qualcosa in più che non sia quello del modello inglese o americano grazie 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 grazie